Se lei si è scusata oggi, io ritengo che quando si fa una commemorazione delle vittime di Nassiria si deve parlare delle nostre vittime, dei nostri soldati e basta. Ciò nonostante poi si possono aprire in altri momenti dei dibattiti sul contenuto dell'intervento della collega Corda la quale si è scusata, ma se sbaglia lei, sbagliamo tutti noi, non è che ha sbagliato lei, sbaglia il Movimento 5 Stelle e noi alle volte sbagliamo.